bene ma non benissimo e io ho tanti non benissimo e ho un solo bene perché purtroppo le vicissitudini stanno dicendo questo c'erano anche le settimane in cui non si riusciva a trovare un non benissimo esatto eravamo scarni di questo in questo caso invece sono più in un benissimo e io comincerei dal non benissimo del Sutirol che porta a casa la seconda sconfitta consecutiva quello che abbiamo un po' detto in apertura di puntata podcast ovvero probabilmente un Sutirol che ha fin qui dimostrato quello che è il reale suo valore che adesso sta un po' rientrando nei ranghi della normalità tra virgolette e quindi un Sutirol che probabilmente per molti versi ha illuso ma non affiliandogli una colpa di questo non facendogli una colpa semplicemente un Sutirol che sta ritornando un po' sul pianeta terra sì un Sutirol che forse è andato oltre le proprie capacità e che adesso sta dimostrando i propri limiti che sono quelli di una squadra che aspetta l'abbiamo detto io poi personalmente la mia battaglia cioè a me squadre così poi per carità chi vince ha sempre ragione però a me vedere squadre così non piace non mi diverte io guardo lo sport per divertirmi tranne le squadre che tifo o la squadra che tifo che mi innervosisce basta che vinca 1-0 però poi non è vero neanche quello perché quando vince 1-0 ma gioca non mi soddisfa comunque c'è qualcosa che non va allo stesso quindi io quando guardo il Sutirol e le guardo tutte non mi diverto fino adesso ha vinto tanto ultimamente ha vinto poco ma è difficile vincere quando in tre partite Cagliari, Bari e Ascoli fai due tiri in porta con uno su calcio di rigore è facile che gli altri prima o poi te lo mettano ergo anche se il portiere è bravo anche se ti difendi bene anche se sei in 11 e tre linee alla palla l'episodio il rigore il gol al bolo arriva in questo momento se dovessi trovare un giocatore buono che mi ha convinto al Sutirol credo che possa essere proprio il portiere e pensa che lui ha una carriera di C cioè credo che sia il primo anno che fa in serie B io credo che la lieta novella di tutto questo sia proprio è un portiere anziano cioè anziano per essere un calciatore non è un giovane se non ricordo male è proprio il primo anno di serie B è una carriera di C comunque si è messo non mi stuperei insomma che il prossimo anno potesse prendere altri non so se ha firmato, ha già rinnovato col Sutirol no non credo però ripeto non ha l'età cioè adesso guardo però ma si era solo va boh fare i suoi era solo un ragionamento che si stava facendo stiamo parlando chiaramente di Poluzzi lui ha un biennale ovvero fino al 30 giugno 2022 ah beh allora l'ha già rinnovato no 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 fino a 20 siamo lì 20 no 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 è una notizia vecchia quindi se non è aggiornata la situazione però lui ha 35 anni quindi insomma io andare a prendere un giugno oh un po' di esperienza ma non è che ne abbia poi neanche tanta esattamente magari qualche buona serie C però o magari che rimanga lì può essere vabbè ho iniziato io con un non benissimo tu vuoi aggiungere qualcosa o ti sei accodato semplicemente no allora io faccio un bene ironico che è Odogu perché come ho detto ieri in trasmissione vedere le sue partite mi fa provare tenerezza nei suoi confronti perché davvero combatte come un drago su ogni pallone ma il pallone più vicino alla porta è a 40 metri lui sempre spalle rispetto alla porta avversaria è veramente frustrante lui ha fatto 8 gol però adesso sono 3 mesi che non segna ma non riesce neanche a tirare verso il portiere avversario quindi alla massima la mia massima stima non deve essere bello per uno che lo fa di lavoro non riuscire a segnare e non avere palle deve essere frustrante probabilmente dopo è chiaro che anche lui si è trovato in una nuova categoria quindi probabilmente può anche ritenersi soddisfatto così però sai Ale i grandi giocatori dicono sempre che i gol vanno e vengono l'importante è che ci sia le possibilità le chance cazzo lui non può neanche dire quello perché le possibilità cioè non gli arrivano palle che dici poteva far gol proprio per questo uno a un certo punto deve anche poter dire vabbè ragazzi questi siamo frase che a me non è mai piaciuta ma che ogni tanto diventa utile quindi io più di tanto non potevo fare insomma ma lui infatti se vedi a prendere anche sempre quanti gol ha fatto? 8 8 ma dai per essere all'esordio in serie però sembrava fosse lì ad un passo la doppia cifra che fosse scontata certo sì 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 un altro bene io lo darei all'ITAS questa ITAS appunto di cui abbiamo già parlato prima che si porta sul 2 a 0 nella semifinale di playoff con tre match in cui può tranquillamente giocarsela per portare a casa la qualificazione alle finali e come detto appunto se supra Piacenza così agilmente come sembra fare poi in finale non si troverà certo delle corazzate di fronte quindi davvero potrebbe capitare davvero di tutto quindi bene anche perché sembra non essere stata intaccata minimamente appunto dalle voci di mercato dagli addi dalle polemiche e anche da un rapporto che ormai è chiaro e palese insomma tra presidente e mister si è interrotto da mo tutto questo sembra che appunto non abbia inficiato assolutamente cioè andar via da vincente deve essere il top ah beh non c'è dubbio quindi finora non ha mai vinto niente Lorenzo diciamolo è stato qui qualche bell'anno ma non merita giustamente la menzione la Trentino Volley perché mercoledì è la possibilità di ritrovarsi in finale come hai detto tu prima tre match point e dall'altra parte del tabellone essendo mancata Perugia non ci sono, non dico facili ma sono tutte squadre alla pari io invece metto il non benissimo al Trento che non vince dal 5 marzo che quando aveva 40 punti cioè tu dici il 5 marzo ha hai inanellato 8 risultati utili consecutivi o 9 addirittura 9, 6 vittorie e 3 pareggi ma tu ti trovi all'inizio marzo con 40 punti quando mancano ancora 8-9 giornate alla fine del campionato ipotizzi i playoff addirittura sì e beh 8-9 giornate con quell'andazzo invece poi nelle seguenti 7 settimane 8 settimane ha fatto 3 punti 3 punti ieri Aleffe scusatemi a Zanica contro l'Albino Aleffe ha buttato via un match point importantissimo perché il destino poteva dipendere ancora dal Trento e adesso si deve puntare tutto sull'ultima partita come ho avuto modo di dire prima se vincerà col Novara credo che avrà grosse possibilità di salvarsi direttamente perché non tutti gli altri risultati andranno a posto però vincere col Novara non è facile perché il Trento non riesce più a vincere mi accodo mi accodo e do anche un altro non benissimo che varrebbe per due ma poi riflettendo sulle altre ultime considerazioni fatte anche da mister Graziani in queste ultime ore mi varrebbe quasi da non dico assolverlo ma da capirlo allora il non benissimo quello convinto è a Levico che chiaramente sprofonda l'ultimo posto in classifica quando mancano 3 giornate al termine lontano 5 punti dai play out insomma quindi una situazione che è più che compromessa e quindi non benissimo certo per tutta questa stagione in cui Levico ha dimostrato ben poco l'altro non benissimo volevo riservarlo a mister Graziani che si dimette a 3 giorni dalla fine ti viene da chiederti perché che senso possono avere le dimissioni del genere ma quando leggi poi le sue dichiarazioni in cui ti risponde io ho fatto quello che potevo ma qui l'ambiente sembra essere attecchito intaccato avvelenato non lo so da troppe chiacchiere da troppa gente che sa tutto da tanti allenatori perché questo lui ha detto una cosa sicuramente a Levico non manca gli allenatori che anche dalla tribuna fanno sentire la loro voce allora ecco qui comincio a capire forse le dimissioni di un Graziani che se fosse così si dimostrerebbe per come la vedo io nella vita in generale un signore perché a un certo punto dice lascio il campo insomma se c'è chi sa più di me si faccia avanti io invece non la penso come te io penso che un allenatore o come insomma una persona come di 60 anni che vive nel calcio da tanto tempo se non riesce tra virgolette a reggere chiamiamoli pressioni anche se mi viene a sorridere di Levico è meglio che faccia altro nel senso ci sta che da fuori ti dicano che non sei capace ci sta che tutti abbiano la loro idea soprattutto se fai 7 punti in 12 partite secondo me ci sta meno che tu non sappia gestire questo dal mio punto di vista ha detto tanto mi manca un mese di stipendio retrocessi se retrocessi che matematicamente retroceda un altro però questo è il mio punto di vista tu dici che è così cinico? no io dico che se non reggi le pressioni di Levico terne però a volte possono esserci dei chiacchiericci che ti portano allo sfinimento sicuramente questo in qualsiasi ambito non è mica solo calcisti però se ti fai portare allo sfinimento da quel tipo ripeto dal mio punto di vista se ti fai portare allo sfinimento dai 10 in tribuna o dai 5 al bar o i 7 al ristorante ma non potrebbero aver condizionato anche molti giocatori questi continui chiacchiericci quindi capisci a un certo punto che hai anche lo spogliatoio un po' contro ma non è nel primo nell'ultimo ma la mia idea è che poteva fare faceva più bella figura cioè male ha fatto malissimo io quando leggo di pressioni a Levico o di fatico secondo me poteva rimanere tranquillamente a meno che non sia veramente molto sensibile come persona allora in tal caso come te diciamo come lo sarei io vedi tu saresti tu non puoi allenare ma che tu sei troppo sensibile ti dispiacerebbe lasciare in panchina dovrebbero giocare 20 con te andresti all'arbitro a dire signor arbitro me li faccio giocare tutti si sono allenati bene come faccio come faccio a lasciarle fuori 10 capirà anche gli altri giochiamo tutti ma uffa dai va bene allora ci vediamo qui con il nostro bene o non benissimo l'appuntamento è per venerdì con nuove profezie e chiaramente nuove partite anche se ci sarà poco nei campionati cosiddetti maggiori almeno locali perché ci si ferma per il torneo al tofeo delle regioni ci concentreremo magari più sulle prime categorie ma comunque staremo a vedere intanto ci si risente e ci si rivede venerdì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti